A Air Campania da lunedì aumenta le corse e modifica gli orari per i servizi di trasporto pubblico locale sul territorio regionale. Si tratta di un piano imponente che ci ha visto impegnati in queste settimane per far fronte in particolar modo alle modifiche degli orari delle scuole che hanno aderito alla settimana curta, adeguamenti necessari per un piano trasporti più vicino alle esigenze delle famiglie e degli studenti e quanto dichiarato dall'amministratore unico Anthony Acconcia. A Avellino da lunedì 14 novembre saranno attivati 21 nuovi servizi extraurbani, in particolare l'incremento riguarda i collegamenti sulla direttrice Est. Previste 11 nuove corse nella fascia oraria 15.10-15.15 e aumento delle partenze dall'autostazione di via Fariello. L'azienda inoltre ha provveduto anche ad implementare i collegamenti con il capologo Irpino e le stazioni ferroviarie Diafragula e Caserta attrivando tre nuove corse a Avellino-Caserta ore 13, Caserta-Vellino ore 18.45, a Fragola-Vellino ore 21.00. A Benevento, a Irp dal lunedì prossimo ha previsto l'attivazione di 13 nuovi servizi, implementando le partenze da e per il Metropark di Napoli con due corsi alle 6.30 e alle 18.30. Incrementati anche i collegamenti da e per i comuni di Airola, Arpaia, Bucciano, Montesarchio e Sant'Agata dei Goti. 14 le modifiche al quadro orario dei servizi che riguardano il bacino di Benevento, con anticipi e posticipi delle partenze tra i 5 e i 30 minuti su quasi tutte le direttrici. A Caserta variazioni degli orari, in particolare sulle corse che interessano i comuni di Aversa, Giano-Vetusto, Gricignano e Pastorano. A dei momenti anche sulla linea San Pietro-Infine-Cassino per la modifica degli orari degli istituti scolastici. A Salerno attiva da lunedì la corsa delle 17.30, Napoli, zona ospedaliera, Napoli Aeroporto, Pomigliano, Castel San Giorgio, Fisciano-Salerno.